weee non fare il magazzino muffito da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE DAIE bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono XIUDER e ragazzi anche oggi le novità di Fortnite non si fanno attendere e sono ogni giorno più interessanti confermano che questa stagione si sta dimostrando una delle migliori a parer mio ragazzi a parte il bruto che è veramente l'unica cosa che stona con la bellezza di questa season ci stiamo veramente divertendo un casino bellissime le cose che stanno inserendo bellissime anche le cose che arriveranno e c'è da dire che ci sono veramente ogni giorno sfide nuove da fare cose da prendere livellare insomma ragazzi tanta tanta roba nel video di oggi parleremo appunto delle sfide che arriveranno a quanto sembra domani le sfide spray and pray spray and pray in poche parole spray e prega dovrebbe essere tradotto in italiano ve le farò vedere ricompense ovviamente per tutti punti esperienza roba da utilizzare le vedremo con calma ma comincia anche a vociferare la voce della nuova skin del samsung note 10 voglio farvi vedere alcune risposte di samsung ad alcuni utenti e probabilmente un super super concept che potrebbe assolutamente avvicinarsi a quanto stiamo per aspettare ovviamente per tenervi sempre aggiornati sul dietro le quinte una bella sbadilata di leaks in modo da non farvi stare assolutamente indietro prima però volevo ringraziare tutti quelli che utilizzano il mio codice creator xuderone quando scioppazzate di prepotenza nello shop mi raccomando ragazzi iscrivetevi in tantissimi al canale e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live ma prima ciò da farvi allora ieri mi avete riempito i commenti in una maniera incredibile a volte non riesco a mettere cuori a tutti scusatemi tempisticamente non ce la faccio ma grazie per rispondermi in tantissimi domanda di oggi non ve l'ho mai fatta ragazzi qual è stata una delle tue migliori kill su fortnite dai ce ne avrai una che ti ricordi assolutamente condividila con noi qua sotto nei commenti la più bella una delle più belle che ti viene in mente io ne ricordo una bellissima ce l'ho sempre in mente eravamo nella season 7 erano appena arrivati gli aeroplani eravamo in live ovviamente lande letali team contro team riusciamo a farne 3 su 4 io sono dietro la casa principale di lande il tipo prende l'aereo all'altezza del fienile parte con l'aereo prendo lo miro di barrett una spana di distanza prima che sta per passare pom headshot bellissima bellissima da terra su un tipo in volo con l'aereo siamo rimasti pietrificati io e le altre 7 miliardi di persone che stavano guardando in quel momento ma quindi ciancio le bande e mando alle ciance andiamo subito subito ragazzi a vedere una delle novità trovate nei file di giocchio gioco ve l'avevo anche già pubblicato su instagram per chi segue la mia pagina instagram dedicata a fortnite ovviamente vi ricordate questa skin per per le armi questa copertura questa era l'ultima che si otteneva a livello 97 se non ricordo male dello scorso pass battaglia beh ragazzi hanno inserito due nuove varianti di questa skin non si sa in realtà se verranno regalate o saranno disponibili nello shop in realtà non ha molto senso che siano disponibili nello shop ma è altrettanto strano se vengano regalate visto che oramai siamo nella season numero 10 qua ne vediamo una che ci mostra anche un razzo probabilmente va a riprendere la season 4 e qui invece ne vediamo un'altra molto più carino con alcuni elementi interessantissimi che se non ricordo male sono della season 2 hanno assolutamente senso queste skin perché vanno a riprendere di nuovo elementi che in questa season ovviamente stanno riaffiorando le siti vecchie gli eventi vecchi le skin vecchie anche queste skin probabilmente avranno senso e spero di vederle quanto prima nello shop ma andiamo avanti con il prossimo argomento ragazzi ed ecco qua un'altra figata incredibile abbiamo roba molto più concreta e soprattutto si pensa che la nuova città che potrebbe tornare dopo l'arrivo di tilted town che in realtà non è mai esistita in game come city è nuova e tutta è tutta nuova ma va a riprendere come dice la descrizione la costruzione della ex pinnacoli la nuova city potrebbe essere tomato town io non so se avete avuto modo di vederla in game questa era tomato town nelle vecchie season mi sembra già in season 3 che ci fosse questa è invece una mappa dall'alto in modo da farvela capire molto meglio in poche parole rimane dove adesso è rimasto il tempio tomato tomato town cambiò così dal nulla in un tempio mi ricordo bellissimo è stata trovata nei file di gioco proth questa che è una figata è una copertura è una copertura per le armi e per i veicoli a tema di pizza ed è veramente una delle più cringe in assoluto di quelle che abbiamo pizza filacciata che viene giù con sopra il salamino piccante molto presto ragazzi la vedremo in game e potrebbe appunto annunciare il ritorno di tomato town e andiamo avanti ragazzi con il prossimo argomento siamo finalmente al momento più caldo la nuova skin del note 10 vengono a galla alcune risposte da parte di samsung mobile e questo è della versione degli stati uniti che risponde a un utente rx che dice galaxy iconic skin in fortnite si parla da tanto ragazzi di una possibile fusione delle due skin più famose di casa samsung la galaxy che si prese allora nel 2018 e la iconic una delle skin in assoluto più amate da parte degli utenti lui dice questo samsung ufficiale risponde con un pochettino delle faccette dubbiose ma cominciano le cominciano le bombe no il batti e ribatti di gente che dice sta per arrivare la nuova skin del samsung possibile una nuova note 10 skin una note 10 release date tonight addirittura e se andiamo avanti di nuovo ragazzi ad un altro utente che dice ci piacerebbe sapere se con l'uscita del vostro nuovo telefono arriverà anche una nuova skin di nuovo risponde samsung e dice una proposta interessante giulian e da qui ragazzi io sto per farvi vedere un'immagine che vorrei prendiate con le pinze potrebbe essere un concept potrebbe essere qualsiasi cosa però sta girando e quando le cose girano in maniera interessante io ve le mostro scatapatagal sarebbe ragazzi una versione fusa tra il galaxy e la iconic magari non sarà forse così o forse sarà questa non lo sappiamo queste sono immagini interessanti io ve le mostro ragazzi voi prendetele così come vengono e magari se fosse davvero questa beh è veramente una grande grande figata e non mi parte lo slide partiva lo slide ultima notizia ragazzi del video di oggi le sfide spray and pry ve ne avevo già parlato ci sono sparsi per la mappa degli spray li avete notati anche voi arriva un nuovo set di 14 sfide 7 prestigio 7 normali che ci permetteranno di ottenere un po di regali qua abbiamo le prime 7 come vedete ragazzi fai i danni con le mitragliette pitta io pitta usa lo spray su diverse stazioni della della benzina fai danni elimina opponenti insomma tante sfide che ci regaleranno delle cose queste 7 sono le classiche queste 7 invece sono già le sfide prestigio noi non voi non vi preoccupate troverete nel canale una sezione apposta dedicata a queste sfide in modo che possiate risolverle senza nessun problema guardando i miei video tutorial io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo alle 8 in live ciao